Propongo coinvolgimenti interattivi in chi guarda, ricercando possibilità spaziali nella pura virtualità dell'evento luce. Le pennellate puntiformi di un immaginario dipinto analitico di matrice divisionista si estendono sulle pareti con una strutturata disseminazione di punti pittura di consistenza plastica, sferica o emisferica, che disegnano immagini che si definiscono nell'autonomia di ogni riguardante. Così, ognuno, esercitando l'interattività insolgente, può collegare visivamente i vari elementi, persino descrivendo linee virtuali diverse da quelle che hanno determinato la costruzione dell'opera.